Salute a tutti, io mi narro Riccardo e oggi ho fatto vedere in sardo. Tanto, ho fatto questo video metà curto che sinceramente a come non penso a te narrare, ma oggi ho fatto vedere una parola assopra questa lingua e assopra il dialetto che ho fatto a come. A come sei questionante in uno dialetto più o meno siniscoleso, che l'ha poi imparato da esso siniscoleso, ovviamente. Questo è un po' numeroso, fin, che è un numeroso che ha fatto la prima lingua che ho cercato, che ho provato ad imparare. E posso parlare di Bruso? Sardu è questa lingua che mi piace di Bruso, di tutte le lingue romanzo. È una lingua metà speciale per me, è una lingua che ha un sonno metà misterioso. Tanto invio saluto a tutti i sardosi che mi conoscono e a tutti i sardosi. Voi senti su un popolo metà-ONU, metà accolizzante, non mi rende a mento pruso, ma è tutto. Grazie a tutti, grazie a tutti i sardosi che mi hanno imparato parola, metà e tutto. Tanto, adios.